...logica per trovare soluzioni che davvero ci permettano in maniera efficace ed efficiente di produrre cibo per tutte queste persone. E nello spazio diamo il nostro contributo. Sulla Stazione Spaziale Internazionale mi è capitato di partecipare ad esperimenti proprio sul funzionamento delle piante per capire proprio a livello di geni, a livello genetico in che modo sono controllati per esempio la crescita delle piante e questo permetterà naturalmente di sviluppare nuove tecnologie, di ottimizzare le tecniche agricole. Ma non dimentichiamo oltre alla Stazione Spaziale anche i tanti satelliti che abbiamo in orbita, che osservano in continuazione la Terra e che ci permettono di raccogliere una grandissima quantità di dati sulle condizioni meteorologiche, sull'atmosfera, sugli oceani, sulle superfici coltivate e coltivabili, sulle foreste, sui deserti, sui ghiacciai. Quindi un esercito di satelliti che in continuazione osserva il nostro pianeta e ci dà questa grande quantità di dati.